Sindaco Frascherelli, c'è una novità sulla questione del Green Pass obbligatorio nelle sedi comunali che sarebbe dovuta entrare in vigore venerdì, così non sarà? Sì esattamente, nel senso che io ho adottato il provvedimento che conoscete qualche settimana fa ormai in assenza di una disciplina in tal senso a livello nazionale e generale, successivamente è stato adottato un provvedimento da parte del governo che sostanzialmente, lo dico col dovuto rispetto, ricalca il mio anche se ha un contenuto diciamo così meno ampio, nel senso che si applica ai lavoratori e non ai fruttori di lavoro. Il mio modesto avviso è meno coerente del mio, nel senso che non vedo per quale motivo un tecnico che entra in comune come lavoratore debba avere il Green Pass e se invece vi entra per ritirare un documento non debba avere, nel senso che poi siccome il fine è quello della tutela della salute in un ambiente di lavoro è evidente che la salute va tutelata in entrambi i casi. Comunque, siccome il provvedimento governativo è un provvedimento che proviene da un organo che è ovviamente superiore, sovraordinato all'amministrazione comunale, all'amministrazione locale, quindi al sindaco, ho confrontandomi poi ovviamente con la maggioranza e con gli uffici, ho ritenuto più corretto procedere con la revoca del provvedimento. Quindi a finale, come negli altri comuni, si applicherà quello che è il provvedimento governativo se non sbaglio dal 14 o dal 15 di ottobre. Quindi si entrerà in comune, lo ricordiamo, col Green Pass solo dai lavoratori e le cariche elettive, chi non... Sì, i lavoratori dipendenti del comune, chi in comune viene a esercitare un servizio, comunque sempre, non so, l'impresa di pulizia per esempio, o anche, come dicevo prima, un tecnico libero professionista che dovesse accedere ai locali comunali per il patrocinio degli interessi di un cliente, che so, la pratica urbanistica piuttosto che altre cose, dovrà essere munito di Green Pass, mentre il cittadino che vi accede per ritirare un documento oppure, non so, rinnovare la carta d'identità, no. È un provvedimento che arriva all'indomani del verdetto dal Tribunale amministrativo regionale che di fatto sospendeva questa ordinanza. Allora, io del provvedimento del Tribunale amministrativo non so nulla, se me lo riferisce sarà sicuramente così, mi è stato riferito, perché io poi, adottato l'ordinanza, mi sono confrontato con coloro i quali non erano d'accordo col provvedimento stesso, come giusto che sia, nel senso che poi io faccio il sindaco, sono sindaco di tutti, e quindi ascolto anche chi non è d'accordo, ovviamente, con quello che faccio, e penso che sia anche normale che sia così, perché se tutti fossero d'accordo con quello che faccio, ci sarebbe qualcosa che non funziona, e i quali mi avevano, alcuni di queste persone sono persone con cui hanno un rapporto di, posso dire, di amicizia, nel senso che ci conosciamo da sempre, mi avevano preannunciato e avrebbero fatto un ricorso al Tribunale amministrativo. Ora, se le cose stanno come lei mi dice, immagino che il Tribunale amministrativo si sia pronunciato, come si dice in gergo, in audita altera parte, cioè senza ascoltare le ragioni della controparte, in questo caso dell'amministrazione comunale, quindi probabilmente, vista l'urgenza, perché il mio provvedimento entra in vigore il venerdì, se non vado errato, lo ha sospeso, se le cose stanno come mi riferisce, perché al momento in amministrazione non è ancora arrivato, cioè il Comune non è arrivato nulla. Comunque, nella sostanza, l'ordinanza mia, per le ragioni che ho detto prima, cioè per il fatto di l'intervento, poi successivamente, un provvedimento governativo, che non mi si sovrappone completamente, ma in gran parte sì, è stata revocata, mio malgrado.